La felicità, che cos'è per te la felicità? La felicità credo che sia il Natale, credo che non ci sia festa migliore per rappresentare la felicità. Sarebbe bello che il Natale ci fosse per 365 giorni all'anno, non è possibile, lo so, è un'utopia. Però fermare la felicità ogni tanto ci servirebbe per ricordare quante cose possiamo fare volendo bene agli altri, dedicandoci di più agli altri, dedicando soprattutto forse anche a noi stessi. Compia attenzione al non sprecare e cercare invece di rendere utile tutto quello che facciamo. Gaetano, intanto grazie anche per le parole che hai appena espresso. Raggiungi pure la tua postazione. Tutto è pronto, il titolo del brano lo abbiamo annunciato, è Ferma la felicità e loro sono gli stadio! Quando non si nasce il vento, quando il mondo gira lì in contrario. Pensa di ogni tanto, quando ti senti solo, quando lì in te gira, mi dai un po' di paura. Pensa anche per te La25 notte che se ti aprirà la mia voce, ma ci devo essere così grande. E non mi so se ci stanno con te, e se ti abbia molta' piano. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.